Nella collezione egizia del Museo di Como si trova un oggetto di particolare interesse ma che non richiama immediatamente l'attenzione del visitatore come il sarcofago di Ziuret sia perché è di dimensioni decisamente inferiori, alto 20 centimetri, sia perché è collocato insieme a tanti altri oggetti molto simili quindi si confonde un po'. Si tratta di un usciabti in legno ricoperto di bitume, una sostanza nera che serve a impermeabilizzare e quindi proteggere il legno. Chi è andato al Museo Egizio di Torino ha visto la tomba di Ka avrà notato che il sarcofago è anch'esso ricoperto di questo bitume nero e poi anche delle decorazioni in oro, in lamina d'oro. Gli usciabti erano le statuette che gli egizi mettevano nelle tombe affinché facessero i lavori agricoli soprattutto al posto del defunto nell'aldilà. Infatti queste statuette hanno nelle mani un falcetto, una zappetta e sulla schiena un sacchetto con le sementi. Oltre a questo hanno anche inciso sul corpo o inciso o dipinto a seconda il capitolo sesto del Libro dei morti con la formula che avrebbe permesso a queste statuette di animarsi e quindi di sostituire appunto il defunto. Ovviamente più il defunto era ricco più statuette aveva e quindi più servitori a sua disposizione. L'usciabti di cui parliamo è particolarmente importante perché apparteneva al famoso faraone Seti I, il padre dell'ancor più famoso Ramses II. La tomba di Seti I venne trovata da un italiano da Giammatista Belzoni nel 1817 nella Valle dei Re. La tomba era già stata violata, però i ladri avevano lasciato alcuni oggetti al suo interno e tra cui ad esempio più di 700 di questi usciabti. Attualmente se ne conservano solo 350 e sono un po' dispersi nei principali musei del mondo, ce ne sono ai musei vaticani, al Louvre, al Metropolitan Museum e uno è anche al Museo di Como.